Una lunga preparazione sommata di ingredienti privi di conservanti caratterizzano le colombe pasquali artigianali. Basta solo assaporarne una per capire che la differenza è notevole. Visitando un noto forno di Cremona abbiamo potuto seguire le fasi del processo. Lavoro con mia moglie, mia sorella. Nel periodo natalizio di Pasqua realizziamo il dolce tipico, classico, la colomba, il panettone. E volevo farvi vedere i procedimenti che c'è bisogno di fare. Da dove parte lei? Allora, si parte da un lievito naturale nostro, di nostra produzione. E noi lo teniamo così. Questo sarebbe il terzo rinfresco. Lui lo usiamo tutti i giorni. Nel momento in cui andiamo a produrre la colomba o il panettone, va rinfrescato per tre volte, in modo che perda un po' di acidità forte e andiamo a sfruttare tutti i fermenti lattici che si creano all'interno del lievito naturale. Un ulteriore bagnetto. Li tolgo ancora un pochino di quest'acqua qua. Il lievito viene inserito nell'impastatrice aggiungendo acqua zuccherata. Si impassa il tutto e successivamente si versa del tuorlo d'uovo, continuando ad impastare. Dopo che abbiamo effettato questo impasto, lo depositiamo in una marna. Lui deve lievitare per 18 ore circa, a una temperatura di 24-26 gradi. L'indomani, finito questo impasto qui l'indomani, ce lo ritroviamo in questa maniera qui. Quindi già qui dentro c'è già del tuorlo, dello zucchero, del burro, tutto incorporato. Oltre che con i canditi, lo fate alla colomba pasquale anche con altri gusti. Sì, facciamo cioccolato e cioccolato bianco. Quest'anno vogliamo fare al caramello salato, quindi ci sarà del caramello all'interno dell'impasto che lo renderà ancora morbido e delle goccioline di caramello che poi si sciolgono dentro durante la cottura e sono buonissime.